Ciao, siamo qui con Fabio Geda e vorremmo farti qualche domanda. Prima di tutto, allora, è stato detto che lei è partito dal settimo principio, se non sbaglio, del manifesto, che quello che è condividere è una responsabilità. Esatto. Quindi, secondo lei, qual è il filtro che bisogna usare quando si condivide? Cioè, quando si posta, qual è il ragionamento che ognuno di noi dovrebbe fare? Ma allora, il primo è esattamente come diceva Giordano Meacci, capire l'autorevolezza della voce, nel senso che non siamo tutti autorizzati a dire qualunque cosa, ok? Ci sono persone che sanno e persone che non sanno. Quindi, anzitutto, quando leggiamo le informazioni in rete, prima, anche se ci solleticano la curiosità, se ci fanno arrabbiare, se ci indignano, se ci fanno ridere e quindi vogliamo ricondividerle, no? Per sembrare informati, intelligenti o buffi agli occhi degli amici, chiediamoci se quello che stiamo condividendo semplicemente corrisponde alla verità. E proviene da una fonte autorevole. La seconda cosa, ovviamente, è che, come raccontavo, gli algoritmi del web e dei social fanno sì che noi riceviamo sempre informazioni che rientrano già nel nostro modo di vedere il mondo. Quello che siamo chiamati a fare in tanti modi diversi, invece, è proprio uscire da queste camere dell'eco, no? dove tutto ci dice tu hai ragione e cominciare a confrontarci con delle idee diverse dalle nostre. Ecco, queste due attenzioni, secondo me, sono fondamentali. Grazie. Un'altra domanda, invece, che volevamo farle riguarda i social network che oggi sono molto utilizzati, soprattutto dai giovani. E la nostra domanda era, appunto, come, secondo lei, si potrebbe gestire la cosa al meglio? Anzitutto capire come funziona ogni singolo social, no? Sono luoghi diversi e c'è anche una, come dire, hanno proprio delle regole interne differenti. Vi faccio un esempio. Io per anni sono stato sia su Facebook, sia su Twitter, sia su Instagram. Da 20 giorni non sono più su Facebook. Nel senso che dopo 12 anni ho capito che quel luogo lì non era più adatto a me, al mio modo di vivere l'incontro e lo scambio delle informazioni sul web. Mentre invece Twitter e Instagram continuano a convincermi. Seconda cosa, c'è la cosiddetta netiquette. Cosa vuol dire netiquette? Vuol dire l'etichetta, no, della rete, ok? Di ciò che c'è in giro nei social. Il nostro modo di comportarci bene sui social. Ecco, secondo me basterebbe anche solo essere gentili. Basterebbe essere educati. Basterebbe non nascondersi dietro dei nickname, no? Imparare di più a metterci la faccia, anche se siamo al di qua di uno schermo. E come diceva, credo, Tommaso Pincio, prima dire soltanto cose che avremmo il coraggio di dire di persona. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Grazie a te.